Siii ! Siiii ! Cioè il circolare è mocio I pugni bedduzzi Ma il circolare è mollo Devi colpire più forte Forza Alessio Guarda come c'è sta niente e ginocchio sinistro dopo il circolare poggi il piede destro con la punta e vai a dare la ginocchiata sinistra circolare destro punta, ginocchio destro e ce